E' tempo di saldi, anche nelle Marche sono partiti sabato scorso, oggi siamo andati a sentire i commercianti per capire come stanno andando. Qualche persona in più che si muove, che fa delle domande ci sono, ma non è il nostro momento migliore, sono sincera. Lavoriamo sempre di più durante l'anno. In quale scondistica siete partiti? Al momento al 20%, anche perché la nostra linea sempre economica non ce lo permette in realtà di fare di più. Stiamo lavorando abbastanza, quindi le aspettative sono quelle che immaginavamo. Qual è il capo che va per la maggiore, quello più venduto? Tanti vestitini, corti, lunghi, però cose fresche, veloci. Io spero che migliore, tanto iniziamo anche con l'apertura serale. Con quali sconti state facendo fino adesso? Allora, 20%, 30% e 50%. Ovviamente lo shopping a prezzi scontati avviene in tutta sicurezza. Gli ingressi nei negozi sono contingentati e i clienti devono sempre utilizzare la mascherina all'interno del locale e nei camerini. Occorre inoltre disinfettarsi le mani con gli igienizzanti presenti all'ingresso. Grazie.